www.feyyaz.tv Mi sono messo in testa che io punto più in alto possibile. Come il Milan deve puntare più in alto possibile, anche io personalmente devo puntare più in alto possibile. Io vorrei essere una bandiera di questo club. Devo puntare in alto perché penso di avere le capacità per arrivarci. Quando indossiamo questa maglietta rappresentiamo noi stessi, sì, ma anche milioni di tifosi in tutto il mondo, quindi è fondamentale per noi dare il massimo. Grazie a tutti.